In campagna l'amianto ha provocato soltanto nel 2022 più di 600 decessi, 100 per mese toleoma, 200 per tumore polmonare, 300 per altre patologie e migliaia di nuovi malati, decine di migliaia i decessi per altri agenti cancerogeni. I numeri sono stati resi noti questa mattina a Palazzo di Città nell'ambito del convegno organizzato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. La lotta contro l'amianto riparte dalla campagna. Questo è il titolo dell'iniziativa nel corso della quale si è parlato degli ultimi dati disponibili che parlano di tre nuovi siti industriali con amianto, 85 edifici pubblici, 955 edifici privati, 3043 coperture in Ethernet, in totale 4.000 strutture. Le bonifiche anche sono in ritardo. Altra forte criticità è la mancanza di discariche destinate a ricevere materiali con amianto e impianti di inertizzazione e l'inattività del centro operativo regionale che registra i casi di mesotelioma, il tumore collegato proprio alle particelle di Ethernet. In campagna tra gli insediamenti produttivi a maggior rischio c'è Bagnoli per l'industria del cemento amianto smessa nel 1986, Little Cedar per il settore metallurgico, Fincantieri, L'Avis di Castellammare di Stabia, l'officine dell'ex Ferrovie dello Stato. Ma l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, parla anche del porto di Salerno. Ed è scelto Salerno, per questo convegno non emerge dalla vostra mappa che ci siano particolari criticità proprio in questa provincia? Ci sono perché il porto, carico e scarico di amianto e ci sono tanti siti nei dintorni e nel resto della campagna. Numeri davvero importanti e preoccupanti, quelli che lei ha illustrato questa mattina? Certamente, quello che abbiamo detto è confermato anche dal vicepresidente della regione, onorevole Bonavitacola, il quale appena ora sta intervenendo, chiarendo che siamo ancora molti indietro con le bonifiche. Purtroppo è così e queste malattie hanno tempi di latenza che arrivano a 50 anni. In Campania abbiamo circa 600 decessi nel 2022 e per fermare queste epidemie è necessario finire le bonifiche. Poi ci sono le tutele per le vittime e per i familiari. Quindi l'Ona auspia che anche i procedimenti di risarcimento siano più solleciti. Lei ha utilizzato questa occasione anche per lanciare un appello perché c'è anche il tema delle discariche che mancano, che va affrontato. Sono d'accordo. Se debbono essere discariche a chilometro zero, quindi ogni regione ed ogni provincia debbono avere le loro discariche. Poi va defiscalizzata l'IVA, quindi tolta l'IVA, tolta la burocrazia. Per le piccole bonifiche è necessario non imporre il piano di lavoro per le bonifiche. Quindi imporre prezzi calmierati per la bonifica. Questo migliorerebbe, accelererebbe, eviterebbe anche che l'amianto sia lasciato lì dov'è oppure magari sversato nei boschi o in altri luoghi e determinare quindi una contaminazione generalizzata e ancora più grave. È un'azione importante perché questo significa difendere la salute delle persone. Lo Svalatorio Nazionale sul Lamianto è una struttura importante, meritoria, che sta facendo di questa battaglia una bandiera importante e hanno voluto riconoscere con questa iniziativa che in Regione Campania non trovano animi insensibili, anzi trovano impegni concreti su questo fronte. Dobbiamo fare naturalmente di più.